ricevitoria gerace a montepone ripo da noi puoi giocare super era 8 totogol totocalcio trist giornaliere e win for life ogni ora agenzia autorizzata per le scommesse sportive match point ricariche telefoniche pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar ricevitoria gerace vi aspettiamo in via padre pio a montepone ritmo su di noi puoi scommetterci dodicesima giornata del campionato di prima categoria gironecito dicessima di ritorno meno 4 dalla fine e oggi il montepone comincia una delle ultime partite ovviamente la quart'ultima nella speranza di raccogliere in queste quattro partite 10 punti che lo potrebbero proiettare nel campionato di promozione 10 punti perché inopinatamente come tutti quanti ormai saprete dai giornali da quelli che avete potuto seguire le nostre trasmissioni sportive bastano alla squadra di alessandro pisano perché dopo la sconfitta di domenica scorsa del san calogero a borgia la il montepone si è ritrovato in testa con tre punti di vantaggio proprio sul san calogero e ben cinque sulla vigor la mezza il buon pomeriggio vi giunge dalla campo comunale di contrada mannes di montepone lido da fausto varano con l'assistenza tecnica di pasquale lentini oggi sostituisco indegnamente il conduttore precipuo che avete avuto occasione di seguire per tutto il campionato giorgio de villipsi impegnato in problemi personali per cui sarò io oggi a darvi a raccontarvi alla partita certamente non sarò solo come avviene tutte le domeniche per giorgio avrò accanto a me giuseppe ranieri che mi aiuterà nel collaborare nel presentare questa partita a proposito partiamo subito prima con le formazioni dopodiché sentiremo la voce proprio di giuseppe e allora il montepone schiera la classica ormai formazione con lombardo fiorentino ienco mellace con i di nania doria voci procopio canistra e voci domenico il numero 8 voci marco ovviamente il capo cannoniere del campionato in panchina leone sinopoli fall paparazzo antonio paparazzo all'altro antonio questo primo dell'ottantanove mungo e carpino manca bassi dei masi in formazione per il montepone vediamo invece la formazione delle chiaravalle un chiaravalle che è lotta per le posizioni basse della classifica che deve cercare a cercherà di poter fare punti perché si avvicinano certamente i play out anzi questi sono quasi certi i play out per la squadra di macri e vedremo quello che potrà succedere da qui alla fine del campionato allora schiera garieri de giorgio borrelli lombardi mammone virgilio mai da claudio fulciniti mai da andrea iozzo antonio e rauti in panchina forti candiloro marra tino ranieri iozzo raffaele e macri nicola all'allenatore è gialluca macri il tecnico che è in panchina allora giuseppe presentiamo questa partita amici sportivi buon pomeriggio dal comunale di montepone quando siamo giunti ormai a poche gare dalla fine del campionato il montepone sale in cattedra ed è a tre punti dalla seconda san calogero oggi dovrà vedersela con il chiaravalle appollaiato tredicesimo in classifica con 26 punti sulla carta appare un match alla portata per l'undici di pisano che dovrebbe sicuramente approfittare della gara casalinga per rimpinguare il bottino in classifica di altri tre punti preziosi però si sa il calcio è fatto di episodi e il chiaravalle sicuramente nonno la darà certo vinta sin da subito ebbene certo è così nel calcio tutti quanti vorranno giocarsi alla pretta e poi sappiamo che è ogni partita a storia a sé lo abbiamo visto proprio personalmente domenica scorsa in quel di borgio quando la capolista san calogero per ben tre volte in vantaggio si è fatta addirittura rimontare sul pareggio e poi anche addirittura scavalcare per la sconfitta finale a due minuti dalla fine con il gol del borgese pilò il montepone come dicevamo è chiamato a fare dieci punti in quattro partite non sarà facile certamente perché dovrà incontrare squadre che lottano per non essere invischiate nella zona bassa della classifica fra tutte proprio quella di oggi chiaravalle quella di domenica prossima il monasterace che giocheranno a bevongi giocherà la partita si giocherà a bevongi e poi avrà il batolato in casa e la trasferta di mileto contro il real mileto se queste ultime due potrebbero non avere nulla da chiedere al campionato certamente le altre due quelle che abbiamo nominato chiaravalle e monasterace sono certamente venderanno la cara la pelle anche perché giuseppe se non ricordo male all'andata tra monasterace e montepone ci furono scintille sì sì possiamo dire parecchie scintille fu un match a poco addirittura sì un match caldo caldo bene allora vediamo il montepone che è schierato alla sinistra dei nostri teleschermi nella classica maglia giallo verde a strisce orizzontali sulla nostra destra e il chiaravalle con una maglia bianca con una bordatura se non vado errato giuseppe mi sembra giallo rossa un po la vecchiaia non ci aiuta più eh vabbè gli occhi ormai però ci siamo ci siamo pare che sia giallo rosso bianco rosso non ho capito bene comunque vedremo no anzi è giallo nero giallo nero giustamente i colori del chiaravalle che sono giallo nero in questo momento non li vedevo da lontano e allora c'è un fuorigioco di rientro da parte di un giocatore del chiaravalle il numero 7 per la precessione Maida Claudio Maida il chiaravalle fa di necessità virtù schiera per queste ultime partite il centravanti per eccellenza della squadra chiaravallese Andrea Maida è giocatore che come tutti quanti saprete ha avuto un passato in categorie superiori ha giocato anche in campionati certamente più prestigiosi adesso alla fine della carriera ha scelto questo progetto per la sua cittadina ci sembra un po' in carne ovviamente perché probabilmente gli allenamenti sono quelli là sono anche è anche un ex mi suggerisce qui alle mie spalle Mimo Cosentino che fra poco sentiremo anche per questa partita è certo che è sicuramente un giocatore che se può giocare un po' da fermo potrebbe anche fare male alle squadre avversarie vedremo se il chiaravalle riuscirà ad avere i suoi servigi in maniera positiva punizione per il Montepone sulla palla Armando Mellace si schierano in avanti le torri del Montepone si porta avanti anche Conidi mi pare Cannistrà in aria al limite si avvicina anche Fiorentino per l'eventuale ribattuta batte Armando Mellace la palla sfiorata e poi è bravo il portiere Guerrieri ad accorgersi a vedere questa deviazione da parte probabilmente di un suo difensore a mandare la palla in calcio d'angolo per un suo per un primo calcio d'angolo a favore del Montepone Fiorentino cercherà lo scambio con Mellace Rauti si avvicina per evitare questo movimento poi Armando riceve la palla rinvia Rauti la palla in possesso dei giocatori del Chiaravalle da parte di sempre di Rauti poi il disturbo del numero tre Borrelli e la palla alla fine va a fine tra i piedi di Lombardo che si appresta il rinvio lancio lungo Giozzo il capitano del Chiaravalle perde la palla Mellace in avanti per Voci Marco Voci che cerca di girarsi lo fermano i difensori del Chiaravalle esattamente del Giorgio la palla finisce in fallo di fondo per il secondo calcio d'angolo del Montepone Domenico Voci sulla palla si avvicina sempre Mellace tocco per il numero quattro che mette al centro Voci cerca di toccare di testa anzi era Procopio e la palla è preda di Igarieri Andrea Maida di tacco cerca di controllare il pallone la palla resta da quelle parti proprio per il fratello Maida e Claudio attenzione forse no l'arbitro non evidenzia la posizione irregolare probabilmente del giocatore del Montepone la palla viene da quest'altra parte Domenico Voci tira dalla lunga distanza la palla controllata da Garieri finisce sul fondo Mimmo dicevamo di questa partita di questo finale di campionato importante e il Montepone si è ritrovato adesso in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul San Calogero deve cercare di mantenere questi tre punti ma non sarà facile perché abbiamo detto che ci sono scontri molto difficili con squadre di bassa classifica Ricordiamo che ha dovuto recuperare otto punti il Montepone sul San Calogero adesso si trova tre punti sopra certo che deve riuscire ad amministrarli perché le prossime tre partite saranno come dicevi tu difficili proprio perché in conto squadre alle quali servono servono i punti serverebbero due vittorie oltre a questa di oggi serverebbero due vittorie e potrebbe pareggiare una partita insomma giustamente si potrebbe permettere dieci punti dovrebbe trovare in queste quattro partite tre vittorie e un pareggio per un totale di dieci punti manterrebbe in ogni caso il punticino eventualmente di vantaggio sulla inseguitrice San Calogero San Calogero che probabilmente ha buttato questo campionato ha buttato per modo di dire anche perché ricordiamolo erano tre le squadre che ambivano a questa vittoria finale la vigore si è un po' tirata fuori perché ha pareggiato troppe partite mentre San Calogero e Montepone hanno continuato a vincere hanno incamerato punti su punti poi il San Calogero probabilmente ha pagato forse lo scotto della fuga in avanti non sappiamo come certamente ci può stare che ci sia in un campionato una fase una fase una flessione il Montepone probabilmente l'ha avuto nelle partite in trasferta forse nel girone di andata poi invece ha recuperato benissimo adesso viene da una sequenza di vittorie consecutive non so se 12-13 una cosa del genere quindi è addirittura una cavalcata che ha portato gli uomini di Pisano ad approfittare dei passi falsi anche del San Calogero Borrelli con la palla tra le mani indietro per Lombardi Lombardi mette verso l'area di rigore del Montepone dove Claudio Maida cerca di controllare il pallone viene francobollato dal giocatore del Montepone che addirittura fa ribattere fa carambolare la palla tra i piedi del giocatore del Chiaravalle e la rimessa con le mani è a favore dei giocatori del Montepone Ienco verso Mellace che poi viene superato scavalcato da De Giorgio però riconquista il pallone la squadra di Pisano con Cannistrà che viene fermato ma tutto solo qui sulla fascia di destra c'era il numero 7 Doria la palla non arriva perché il lancio di Mellace è corto e il pallone finito in fallo laterale la rimessa con le mani di Borrelli Iozzo il capocannoniere del Chiaravalle verso Maida Andrea che però non riesce a controllare il pallone la stessa palla batte sulla sua testa e poi finisce sul fallo di fondo dimostra di non avere fretta il Montepone Giuseppe cerca di far stancare probabilmente il Chiaravalle sappiamo che queste squadre probabilmente non riescono a fare una preparazione continua assidua come fanno magari le squadre di testa quindi probabilmente poi nel corso del secondo tempo potrebbero anche calare fisicamente Sì lo volevo accennare prima un inizio un po' sornione da parte del Montepone che però ha già fatto vedere qualche conclusione importante come la punizione di Mellace che ha costretto il portiere alla deviazione in corner schierato con un 4-4-2 non proprio puro però dovrebbe cercare di approfittare già subito di questo quasi disordine da parte del Chiaravalle per cercare di cominciare a rompere l'equilibrio Sì effettivamente vediamo un Chiaravalle addirittura che ha un 4-2-4 tipico quasi schierato in queste condizioni perché vediamo Maida il giovane diciamo con il numero 7 sulla destra poi c'è Rauti centrale Maida Andrea attaccante e Giozzo che se ne viene qua sulla faccia di sinistra quindi addirittura un 4-2-4 quello di Macri che tenta di mettere in difficoltà la difesa del Montepone Fiorentino Mellace non apre sulla destra ma preferisce andare a sinistra da Ienco Carnistrà ancora Mellace apre tutto adesso per Fiorentino che viene sulla fascia di destra vediamo se riesce a controllare la palla si subito la mette al centro di testa buono il colpo di testa di Procopio e ancora una volta Garieri fa il miracolo e riesce a mandare in calcio d'angolo non era stato attentissimo e prontissimo prima il portiere nel ribattere la palla l'ha messa tra i piedi sulla testa di Procopio poi addirittura ha dovuto fare un balzo felino per cercare di fermare la conclusione degli attaccanti del Montepaone dodicesimo del primo tempo ancora Garieri di Pugno da allontanare Rauti fermato con un fallo da Conivi che rientrava per prendere la sua posizione in difesa dopo la proiezione offensiva per il calcio d'angolo l'arbitro un po' fiscale un po' pignolo il signor Torce di Catanzaro ovviamente non lo abbiamo detto prima nella lettura delle formazioni Borrelli il lancio per Rauti non viene concluso completato poi il Chiaravalle ancora che cerca di conquistare il pallone con il numero 4 Lombardi Lombardi e Virgilio sono i due giocatori di centrocampo in questo movimento che stanno facendo gli ospiti in maglia bianca e Borrelli ancora con la palla tra le mani per la rimessa dal fallo laterale Fiorentino Poci Domenico Marco non riesce a darli indietro Canistra recupera il pallone però commette fallo a giudizio del signor Torce e la punizione è assegnata agli uomini del Chiaravalle Chiaravalle che effettivamente Giuseppe come dicevi tu un po' attenzione vediamo copriamo questa azione con Borrelli che cerca di portarla in avanti verso Rauti Rauti si sposta dalla fascia destra alla fascia sinistra si alterna con Claudio Maida adesso la palla finita stavamo dicendo di questo Chiaravalle che sembra così a primo guardare a primo vedere disordinato disorganico come dicevi tu però questo 4-2-4 diventa pericoloso in fase offensiva si in fase offensiva manca l'equilibrio in fase difensiva per questo ti dicevo il Montepone dovrebbe cercare di usufruire delle sue veloci ripartenze anche per il tramite di Fiorentino abituato abituato a questo per cercare di rompere l'equilibrio il Chiaravalle sta cercando comunque di fare la sua onesta gara rilevato anche il volume di gioco inferiore si sta proiettando comunque in avanti adesso c'è la posizione irregolare nell'area del Montepone da parte di Andrea Maida si riparterà con la battuta da fermo di Lombardo per Conidi Conidi ancora a Lombardo ecco il pallone come diceva giustamente Giuseppe per il duo Doria Fiorentino che si proietta sulla fascia di destra i due centrali no Virgilio è in difesa quindi sono Lombardi e Fulciniti per quanto riguarda il Chiaravalle in questa loro posizione Virgilio fa in pratica il centrale insieme con De Giorgio Mammone e qui sulla fascia sinistra il numero 3 Borrelli e in attacco dicevamo questi quattro che dovevano costringono quanto meno il Montepaone a stare attento perché effettivamente devono tenere almeno quattro uomini dietro per poterli francobollare Fulciniti per De Giorgio sulla fascia di destra esce bene il Chiaravalle dalla azione difensiva parte in avanti per Giozzo la palla è lunga controllata da Nannia se non vado errato con il numero 13 un po' i numeri sulle maglie del Montepaone sono complicati da vedere Fulciniti ancora per il Chiaravalle all'indietro Lombardi è bella la rovesciata da parte di Andrea Maida lo dicevamo che se lo dovessero far giocare da fermo probabilmente diventa giustamente pericoloso perché ha la posizione il lancio mi pare che fosse di Lombardi 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 del numero 4 Lombardi era leggermente girato quindi non ha inquadrato la porta Andrea Maida ma davvero bello il gesto tecnico un po' ricordiamo in questi giorni c'è stato il famoso gol di Ronaldo Cristiano Ronaldo in questo caso con il Real Madrid che tanto ha suscitato meraviglia diciamo tra gli addetti ai lavori parecchi addirittura lo hanno segnalato come uno dei gol più belli della della storia tante volte diciamo la televisione è quella che aiuta tantissimo in questo caso probabilmente Andrea Maida che poi ce li ha di suo già questi colpi ha voluto tentare una cosa davvero molto bella e pregevole Lombardo all'indietro la palla da Ienco siamo in questo momento al diciottesimo del secondo siamo al diciottesimo del primo tempo ancora 0 a 0 qui a Montepone tra il Real Montepone e il Chiaravalle la giornata non per fortuna è abbastanza tranquilla si pensava stamattina con quel forte vento che ci potesse essere giornata difficile dal punto di vista meteorologico almeno così non è stato né dal punto di vista del caldo né dal punto di vista della pioggia almeno è godibile e possiamo stare tranquilli in tribuna con il pallone ribattuto da Conidi sul corpo di Baida la palla in fallo laterale per la rimessa del Montepone Procopio non riesce a controllarla e la rimessa è affidata alla Chiaravalle esattamente a Borrelli Borrelli per la precisione ancora il numero tre però stavolta si fa soffiare il pallone è bravo Domenico Voci a superarlo ma poi la palla a Garieri che sta dimostrando di essere un buon portiere sta è attento fino ad adesso ha fatto un paio di pregevoli davvero interventi adesso ha saputo chiudere bene sull'avvicinarsi di Marco Voci Mellace qui è incerto il fatto probabilmente il fallo non è di Mellace ma è del giocatore del Chiaravalle che ha alzato il piede quindi la punizione è a favore del Montepone a quanto pare giustamente effettivamente si è fatto male il giocatore del Chiaravalle però in pratica la gamba alta era la sua e quindi giustamente Mellace protestava la propria innocenza rientra Lombardi nella sua linea di centrocampo con Ivi verso Ienco Ienco in avanti per Canistra ma la palla non viene controllata ancora Ienco che sbaglia poi è con Idi che rimedia l'errore del compagno Voci Domenico in indietro in pratica all'indietro con Fiorentino e poi si fa un po' beffare da Doria Rauti attenzione c'è tutto solo Marco Voci pescato in fuorigioco peraltro aveva colpito con sufficienza aveva mandato la palla a colpire la base del palo e non c'era l'opportunità nemmeno non possiamo parlare nemmeno di gol annullato Mimmo stavamo dicendo con Giuseppe che il Montepone sta cercando di un po' sornione aspetta l'occasione giusta secondo me fa male esatto perché dovrebbe cercare di poter segnare il prima possibile di chiudere la gara perché tu sai benissimo certe gare come vanno a finire poi è un derby è un derby dove si è vero il Montepone ha bisogno di questi tre punti ma anche il Chiaravallo ha bisogno di questa di questa vittoria di portare a casa un risultato utile si effettivamente in genere si è si è alla doppia lettura in questi casi il Montepone magari dice aspetta che prima o poi l'occasione giusta capita invece c'è chi giustamente come Mimmo dice bisognerebbe cercare di aggredire subito concretizzare chiudere la partita dopo di che andiamo tutti al mare Giuseppe oddio proprio al mare no però a casa si potrebbe anche andare è giustamente è un modo di dire per dire stiamocene tutti quanti tranquilli senza dover aspettare la fine della partita per vedere il risultato Mellace per il Montepone verso Conidi ancora per Mellace il numero 5 del Montepone viene Ienco prendere il pallone viene fermato Maida lancia in avanti per l'altro Maida attenzione che in una posizione utilissima tira davvero Lombardo stava chiudendo lo specchio della porta non inquadra appunto lo stesso Maida ma una ripartenza del Chiaravalle pericolosa proprio a significare quello che diceva Mimmo che bisogna stare attenti perché in queste partite non si sa mai riesci magari di prendere un gol e poi avere difficoltà a rimetterti in careggiata Lombardo e Conidi ancora a scambiare adesso arriva Domenico Voce a prendere il pallone ad aiutare nella fase di costruzione del gioco si alterna con Mellace adesso è Marco Voce a tornare dietro anche a prendere qualche palla giocabile Fiorentino di testa fermato c'è fallo questa volta di Domenico Voce gamba alta nei confronti del giocatore del Chiaravalle quindi calcio di punizione per gli ospiti Virgilio alla battuta tutto a destra per De Giorgio De Giorgio si proietta in fase offensiva all'indietro verso Fulciniti Fulciniti supera Canistra poi mette al centro Fiorentino a liberare Rauti ancora un batti e ribatti poi la palla finisce tra i piedi di Virgilio di Lombardi ancora per Maida Maida il giovane Claudio ancora il numero 7 mettere all'indietro per Borrelli che non trova proprio i compagni in area di rigore nessuno aveva aperto sul secondo palo e quindi sfuma questa azione del Chiaravalle però il Montevone a questo punto nella testa del Montevone deve segnarsi deve suonare un campanello di allarme perché effettivamente il Chiaravalle sta un po' prendendo campo e come dicevamo con questa posizione di questi quattro che giocano in avanti può essere sempre pericoloso lasciare l'opportunità a un giocatore di tirare da dentro l'aria verso la porta di Lombardo Mellace all'indietro per Lombardo scambia ancora con Nania il rinvio del giocatore viene preso attenzione che la palla va verso Maida che cerca di aggiustarsela e probabilmente tenta di nuovo la rovesciata no in questo caso l'arbitro fischia la simulazione attenzione che se gli fischia la simulazione dovrebbe anche ammonirlo resta a terra Andrea Maida l'arbitro è lì credo che lo stia aspettando si chiama l'intervento della barella secondo me qui Maida un pochettino sta giocando sa che probabilmente con l'ammunizione con la la simulazione richia l'ammunizione oppure gli si è girata la gamba cadendo perché effettivamente non ha saputo non ha potuto controllare bene la palla vedremo se riuscirà a rientrare in partite del numero 9 del Chiaravalle mi sa che si è girato il genocchio ha ragione Giuseppe perché non è stata una simulazione ma come cercava di girarsi e di battere in porta probabilmente ha avuto qualche difficoltà con il ginocchio di fatti Zopp però si rialza per fortuna si rialza Andrea Maida ritorna deve uscire per il momento dal campo ma poi sarà di nuovo della partita Fiorentino Fiorentino in avanti Virgilio di petto Borrelli non colpisce bene la palla che finisce in fallo laterale ancora Fiorentino con le mani Melacci Melacci tutto quanto apre sulla sinistra per Gienco Gienco a cercare Marco Voggi ma la palla è controllata da Mammone per De Giorgio De Giorgio in avanti per Claudio Maida ancora riparte il Chiaravalle buona l'azione del giocatorio ospite con De Giorgio che è tutto sulla fascia per Rauti Rauti si porta la palla con un controllo non appropriato verso l'esterno poi rientra di sinistro mette al centro attenzione che la palla resta lì per Giozzo Giozzo attenta il tiro ribattuto da Conivi anzi probabilmente da Nania ancora il Chiaravalle davanti De Giorgio ancora mette al centro vediamo palla alta sopra la traversa questa volta non è buono il cross del esterno di destra della difesa del Chiaravalle però ripeto secondo me Mimmo il Chiaravalle sta dimostrando che sa uscire bene dalla propria difesa si adesso si è fatto fuori proprio il Chiaravalle ma visto un po' il Montepone che è calato comunque rispetto al primo quarto d'ora e adesso c'è il Chiaravalle che ha preso il sopravvento a difficoltà il Chiaravalle il Montepone a trovare la posizione di alcuni suoi giocatori particolarmente attenzione vediamo adesso l'azione della squadra di casa con la palla al centro vediamo Procopio che cerca di mettere il piede non ci riesce poi Fiorentino Fiorentino per Voci Voci Domenico e Procopio non arrivano sulla palla perché fa prima il portierino del Chiaravalle Garieri che si impossesse ancora del pallone stavo dicendo trova difficoltà di manovra il Montepone perché Mellaccio non riesce a trovare le proiezioni come diceva Giuseppe prima di Fiorentino sulla destra né di Doria e né dall'altra parte Ienco che resta abbastanza indietro rispetto all'evolverse dell'azione da parte della squadra di casa Maida controllato da Mellace Maida porta il pallone in avanti si è ripreso però non riesce a controllarlo braccato dei giocatori del Montepone eccolo Armando Mellace che cerca di lanciare Cannistra fa prima De Giorgio a fermare la palla poi Rauti anticipato da Fiorentino e stavolta lo ha toccato e c'è l'ammunizione per il numero undici entrambi erano andati sul pallone era in ritardo il giocatore del Chiaravalle ha colpito Fiorentino per fortuna nulla di grave si alza subito il numero due del Montepone la la palla viene posizionata nel punto della battuta cambiano il pallone con Idi e Mellace Maida si lamentava con l'arbitro gli faceva vedere la caviglia dove aveva probabilmente subito il colpo precedentemente l'arbitro non lo ha gratificato della sua attenzione Mellace per voci Domenico non riesce a controllare la palla Nani ancora Mellace non ferma il pallone disturbato da Iozzo ancora palla in out per la rimessa con le mani di Borrelli io penso che l'approccio alla gara da parte dell'undici di mister Pisano non sia stato dei migliori Montepone che oggi non ci sta dilettando nella fase di costruzione del gioco con molti errori in fase di finalizzazione e di questo il Chiaravalle ne sta giovando perché esce fuori comunque dalla propria metà campo cercando di proiettarsi con i propri limiti dalle parti del portiere giallo-verde adesso rinvia Virgilio Rauti per Giozzo anticipato da Conedi Ferentino Mellace ecco quello che di solito noi notavamo nel gioco del Montepone erano gli scambi tra i giocatori specialmente sulle fasce di prima Mellace adesso si sta un pochettino più lasciando andare a lanci lunghi probabilmente non riescono e Cannistra probabilmente in questo momento non è entrato in partito forse non ha trovato la posizione in campo perché effettivamente con Voci Marco che è in avanti con Procopio che sono là dovrebbero aprirsi per le entrate sia di Fiorentino che di Daniele da una parte che dalla parte opposta dovrebbe essere Ienco e Cannistra in questi casi certo Ienco e Cannistra però Cannistra non riesce a brillare forse perché è marcato bene ma non è lo stesso Cannistra che siamo abituati a vedere è un 4-2-4 che sta mettendo in difficoltà questo Montepone che sta dimostrando un deficit nella fase di costruzione del gioco anche da parte di Mellace che non trova uomini liberi e adesso c'è il calcio di punizione a favore del Montepone con Mellace sul punto di battuta vediamo gli uomini in aria vediamo se riusciranno a colpirla di testa rinvia la difesa del Chiaravalle poi ancora ribattuto il tiro sempre dei giocatori del Montepone ancora una volta la palla finisce in fallo laterale per la rimessa con le mani dovrebbe essere addirittura Fiorentino ecco Lascia con Idi Lascia Fiorentino il capitano del Montepone si trova sempre in fase offensiva nelle occasioni dei calci di punizione o dei calci d'angolo sbagliano adesso lo scambio Fiorentino e Nannia se non vado errato dovrebbe essere il numero 7 del Montepone quello che ha cercato di dialogare con anzi no è Voce Domenico mi pare Voce Domenico più che Nannia Fiorentino a fermare Rauti poi il pallone colpito da Mammone va a finire in fallo laterale ancora Fiorentino con la rimessa con le mani per Procopio che cerca di dare a Mellacci Mellacci dà lo scambio a Voce e in questo caso come probabilmente si aspettava anche Pisano prima o poi la difesa si apre e Voce non perdona ottima l'azione in profondità da parte di Mellacci il lancio di Mellacci per l'inserimento di Voce regolarissima la sua posizione e al trentacinquesimo il Montepaone passa in vantaggio uno a zero e come al solito e come sempre c'è l'omaggio alla bandierina alla maglia della compianto Gregorio Vatrella trentacinquesimo quindi del primo tempo uno a zero per il Montepaone marcatore e come ti sbagli in questi casi è qui a Montepaone Marco Voce lasciamo per un attimo i nostri colleghi a scrivere a evidenziare e a descrivere l'azione che ha portato il vantaggio il Montepaone eravamo buoni profeti d'altra parte Giuseppe bastava un pochettino di azioni in profondità e alla fine il gol esce sempre sì quel pizzico di cinismo Mellace ha trovato il pertugio giusto e ha lanciato la palla per Voce D che ha arpionato per bene poi ha insaccato in rete una delle conclusioni classiche da parte di questo Montepaone che siamo stati abituati a vedere adesso vediamo come reagirà il Chiaravalle se diventerà più arcigno oppure se lascerà manforte a questo Montepaone c'è il rischio che in questi casi è battuta ma come qualcuno dice qui nel tribuna ma c'è il rischio dell'ammunizione perché se viene colpito un giocatore quando la palla viene battuta per punizione ed è troppo vicino si configura certe volte l'ostruzionismo e in quel caso l'arbitro in quei casi l'arbitro certe volte è addirittura richiamato a fare l'ammunizione diciamo che è abbastanza sereno in questi casi il direttore di gara oggi il signor Torce di Catanzaro che lascia giocare lascia correre queste piccolezze giustamente che secondo me poi alla fine non servono a nulla a manire un giocatore perché non si è allontanato dal pallone immediatamente oppure perché l'avversario magari te la sbatte addosso è antisportivo anche da parte di chi lo fa comunque andiamo avanti con la Rosse Telecronic con il Montepaone che ha sbloccato il risultato al 35esimo adesso è Mellace sempre come sempre come d'altra parte in tutte le sue punizioni a battere per cercare di servire un proprio compagno il rinvio di Mammone di testa la palla finisce in calcio d'angolo adesso certamente forse più di quello che ha fatto fino adesso il Chiaravalle dovrà cercare di scoprirsi Domenico Voci alla battuta lo scambio con Fiorentino Fiorentino mette al centro libera il Chiaravalle ed è Rauti che parte anzi no era mai da Claudio la palla sempre per Voci Domenico Fiorentino mette al centro vediamo se Procopio non riesce ad arrivare per la stirata del difensore del Chiaravalle Borrelli lascia Iozza Borrelli poi cerca di portarsi in avanti il numero 3 fermato ancora una volta Nania in avanti per Fiorentino che è rimasto sulla fascia di attacco poi attenzione che c'è e c'è calcio di rigore se non vado errato credo che ci sia calcio di rigore perché è stato fermato Marco Voci prende il pallone vede il fallo mi pare che sia stato atterrato il numero 7 Doria se non vado errato è il numero 7 Doria che è entrato in aria non se ne è accorto il giocatore del Chiaravalle si è trovato vedremo adesso i commenti anche dei nostri colleghi un po' arbitro è stato decisissimo nel segnalare il fallo non ci sono nemmeno state proteste da parte dei giocatori del Chiaravalle che hanno visto l'azione Marco Voci batte e spiazza il portiere Garrieri doppietta ancora una volta del numero 8 del Montepone che prima della fine del primo tempo siamo esattamente al 39 porta sul 2 a 0 la propria squadra va ad abbracciare i giocatori della panchina saluta il suo tecnico e si avvia a prendere posizione nel campo adesso vedremo se i nostri colleghi sono della nostra stessa opinione forse siamo rimasti un po' sorpresi per questa chiamata del direttore di gara però obiettivamente devo dire la verità Giuseppe non ci sono state grosse proteste da parte di giocatori del Chiaravalle ma no obiettivamente guarda Doria ha ricevuto la sfera in piena aria e comunque ha ricevuto un fallo l'arbitro era vicino quindi è stato in grado di vedere tutto lo svolgersi dell'azione quindi ha concesso il penalty non ci sono state grosse proteste già che il difensore effettivamente ha strattonato Doria l'ha mandato giù per cui il rigore seppur non eccessivamente visibile era netto vediamo cosa dice Mimmo secondo me è stato dato con troppa facilità il calcio di rigore sì il giocatore è stato appena toccato da dietro sì è vero che l'arbitro era lì ha visto forse meglio di noi però sono i rigori questi che se ne vedono diciamo di questi falli se ne vedono tantissimo in ogni partita sì anche perché l'azione stava proseguendo probabilmente inizialmente aveva tentato di dare una norma del vantaggio poi alla fine ha optato perché è stato affischiato con un po' di ritardo anche il calcio di rigore da parte del signor Torcia comunque ripeto per fortuna partita tranquilla partita serena non ci sono grossi falli non ci sono grossi proteste il Chiaravalle ha accettato questa decisione e quindi anche in questo caso si dimostra pur perdendo pur essendo in una condizione di classifica difficile si dimostra il fair play della squadra di Chiaravallesi in questo caso che effettivamente ha dimostrato di accettare la decisione del direttore di gara che probabilmente ci poteva anche stare mi pare che lo scambio che ha portato al rigore era qui sulla destra tra Fiorentino e Gienco la palla era andata in aria per il Gienco poi la stessa dopo il tocco che c'è stato sul giocatore del Montefone era arrivata a Marco Voici ma a quel punto l'arbitro ha fischiato e ha concesso il calcio di rigore prima che l'azione proseguisse Procopio fermato con un fallo probabilmente da Virgilio ma l'arbitro non interviene poi se la porta con le mani Lombardi perché cadendo non può fare diversamente lancio lungo ma il fallo non era stato assegnato al Montefone bensì al Ciaravallo perché Lombardi era stato toccato prima di cadere e di toccare la palla con le mani e da qui è nata l'azione il lancio lungo in aria di rigore del Montefone poi hanno fatto buona guardia i difensori della squadra di casa e la palla è stata rinviata attenzione Lombardo troppo sul portiere questo lancio Andrea Maida prova il tentativo del compagno però certamente non poteva intervenire perché era proprio a ridosso delle mani del portiere lancio in avanti ancora per il Montefone Cannistrano riesce ad arrivare su questo lancio che effettivamente era abbastanza lungo va a disturbare il portiere però non riesce a raccogliere la palla De Giorgio ancora il pallone in avanti per Maida Maida Andrea contro Fiorentino che per ad ogni buon fine cerca di fermarsi e di mandare la palla in fallo laterale sul pallone Rauti vedremo lascerà la rimessa a Borrelli se porterà in aria in effetti possiamo dire che il Montefone è riuscito a sbloccare e il risultato Giuseppe nel momento in cui stava diventando quasi pericoloso il Chiaravalle e noi stavamo dicendo che il Montefone non riusciva a trovare il bandolo della matassa effettivamente comunque i gol sono nati tutti da calci piazzati il primo è stato Mellace che ha trovato il pertugio e l'ha imbucato per Voci Marco il secondo è stato un rigore il Montefone effettivamente oggi anche non brillando sta vincendo con il più classico dei risultati il deficit nella fase di costruzione effettivamente l'abbiamo visto l'abbiamo notato tutti il Montefone non è parso certo brillante e il Chiaravalle comunque sta facendo la sua partita perché anche se perde con due gol di scarto sta cercando di fare di fare gioco al centro per lanciare la palla avanti ma al momento il Montefone diciamo che sta amministrando se si può dire anche con saggezza il gioco per cercare di portare a casa i tre punti fatidici comunque tutto questo discorso per dire che noi certamente i calci li capiamo poco alla fine perché diciamo una cosa se può succedere il contrario era una battuta ovviamente la mia il calcio esatto il calcio ha fatto di episodi si vedono tante cose che vanno in un certo modo in una partita dopodiché in un attimo in un attimo due palloni buttati così in fase costruttiva giustamente è buona però poi sono due gol ecco Nania ancora che cerca di imbeccare Marco Doria che stavolta però era Marco chiedo scusa Marco Voci però stavolta era certamente in posizioni irregolari il numero 8 del Montefone poi c'è la rimessa con le mani di Fiorentino vediamo ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo siamo al 45esimo esattamente vedremo se l'arbitro concederà recupero intanto concede un calcio di punizione a favore sempre della squadra di casa Mellaccio come sempre si appressa si prepara alla battuta cambia pallone ancora una volta tre uomini in barriera per il Montefone si allontana io si allontana restano Lombardi e Rauti chiude lo specchio Garieri sulla sua sinistra il palo della sua sinistra vediamo alza la mano Canistrà per la battuta cerca attira addirittura in porta Mellaccio un tentativo per addirittura uccellare il portiere che si aspettava il cross per gli avversari che erano dentro l'area di rigore dovrebbe aver segnalato uno o due minuti di recupero siamo già al quarantaseiesimo di questo primo tempo vedremo a forza per l'infortunio di Maida di poco fa Rauti sulla faccia di sinistra controllato da Fiorentino arriva in raddoppio Mellaccio poi Iozzo fermato ottimamente da Conidi Nania sulla faccia di destra fermato dal raddoppio della marcatura tra Fulciniti e Rauti vediamo c'è un giocatore a terra dovrebbe essere Iozzo capitano Iozzo del Chiaravalle e a terra anche qui qualche infortunio di troppo sappiamo quante difficoltà ha avuto diciamo nella sua carriera Antonio Iozzo per lunghi tratti è rimasto fuori dai campi di gioco per infortuni di varia natura adesso si tocca la coscia a destra sarà probabilmente un contrasto sì forse una botta e alla fine pare che sia pronto per rientrare in campo Garrieri chiama la palla e finisce qui il primo tempo 2 a 0 i gol sono al 35esimo per quanto riguarda il secondo gol 35-39 quindi abbiamo 35esimo e 39esimo i due gol del Montepone ha cercato di sbloccarla con calma con serenità il Montepone vi è riuscito proprio sul finale di questo primo tempo e noi ci risentiamo per il secondo tempo ricevitorie gerace a Montepone da noi puoi giocare Super Era 8 Totogol Totocalcio Tris Giornaliere e Win4Life ogni ora agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint ricariche telefoniche pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar ricevitoria gerace vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone l'indepo su di noi puoi scommetterci l'arbitro di gran carriera attraversa tutto il campo da una porta all'altra ha controllato la porta qua dalla nostra destra quella che adesso sarà occupata da Lombardo adesso come diritto giustamente va a controllare l'altra porta quella che sarà di Garieri e dopodiché tornerà a centrocampo per dare inizio a questo secondo tempo il secondo tempo che vedrà di fronte di nuovo Chiaravalle e Real Montepone il Real Montepone è avanti di 2 a 0 vediamo alle porte una sostituzione importante crediamo perché entrerà nel Chiaravalle il numero 6 Nicola Macri che è un ex viene un po' giustamente applaudito amichevolmente ed ironicamente diciamo noi dai suoi compagni non vorrei che fosse uscito Mamone il numero 5 se non vado errato perché di solito vedo la sua stazza non la vedo in campo a me pare vediamo gli altri sono tutti quanti in campo no no il numero 5 qui c'è e quindi De Giorgio è passato dall'altra parte allora è facile che no no non è uscito il 5 vediamo forse è uscito Borrelli andiamo per tentativi perché dall'altra parte è andato De Giorgio quindi Borrelli dovrebbe essere uscito il numero 3 vediamo se nel corso della partita controlleremo tutto quanto e allora ripartito anche il nostro cronometro all'afficio del direttore di gare il signor Torce di Catanzaro ripetiamo allora le formazioni il Montepone che non ha sostituito giocatori si trova in campo Lombardo Fiorentino Ienco Mellace Conivi Nania Doria Voci Marco Procopio Cannistra e Voci Domenico in panchina mister Alessandro Pisano porta Leone Sinopoli Foll paparazzo Antonio del 91 l'altro paparazzo Antonio dell 89 non li distingueremo con secondo e primo ovviamente Mungo e Carpino il Chiaravalle schiera in campo Garieri De Giorgio è al posto di Borrelli del numero 3 adesso ci dovrebbe essere il numero Bacri Nicola con il numero 6 in campo attenzione vediamo Voci Domenico Mammone subisce il fallo del numero 11 del Montepone nell'arbitro Fischia le calci di punizione non lo dicevamo Garieri De Giorgio Macri Lombardi Mammone Virgilio Maida Claudio Fulciniti Maida Andrea Iozzo e Rauti in panchina Forti Candiloro Marra Tino Ranieri Iozzo Raffaele perché l'altro è Iozzo Antonio ovviamente e non più Macri che è entrato in campo quindi al primo del secondo tempo al posto di Borrelli abbiamo il numero 6 Macri Nicola Garieri va a mandare il pallone proprio verso Macri che lancia in attacco De Giorgio De Giorgio non raggiunge il pallone e l'ha rimessa con le mani di Fiorentino Mellace Ienco mette giù supera Maida Claudio Attenzione ancora al Montepone con la proiezione in avanti del numero 7 Ienco che Doria chiedo scusa il numero 7 Doria che non riesce a crossare benissimo in aria c'è un giocatore qui del Montepone mi pare che sia Voci Domenico che lamenta sì un colpo torna sì è proprio Domenico Voci adesso ottiene il permesso del direttore di gare di rientrare in campo Maida Andrea proprio Domenico Voci a controllare il pallone l'altro Voci Marco Mellace Mellace si libera della marcatura di Fiorentino ancora Mellace poi Cannistrà adesso comincia a giocare con la palla tra i piedi il Montepone c'è il fallo di Lombardi ai danni di Marco Voci l'arbitro fischia il calcio di punizione adesso Giuseppe credo che probabilmente con questi fraseggi il Montepone cercherà di addormentare il gioco e di controllare la partita beh come è giusto come è giusto che sia bisogna capire se il Chiaravalle riesce a mantenere una buona retroguardia oppure se si se si apre con i fraseggi permettendo quindi la terza marcatura da parte del Montepone l'inizio è stato comunque con un piglio diverso perché si è giocato di prima e si penetra abbastanza facilmente dal centro bisogna vedere come si svilupperà la partita attenzione al calcio di punizione del Montepone Virgilio alle prese con Conidi Conidi costringe il giocatore del Chiaravalle a mandare in fallo laterale il pallone è uscito l'arbitro giustamente non deve assolutamente segnalarlo lo segnala solo se continuano a giocare per fermare il gioco in questo caso non c'è stato Procopio Mellace si prepara il tiro dalla lunga distanza poi mette al centro per il sì c'era una posizione irregolare di Domenico Voci che aveva tentato il tacco per cercare di beffare il portiere del Chiaravalle e io credo che Borrelli abbia avuto qualche problemino fisico perché mi sembra che nel primo tempo sulla fascia sinistra abbia giocato abbastanza bene è stato un giocatore che ha tenuto forse sì è vero che ci sono state le azioni che sono venute da questa parte non so se magari viene imputato di qualche cosa di particolare ma però alla fin fine non se l'è raccavata meno bene degli altri sarà certamente un problema fisico tant'è vero che Macri è stato costretto a spostare De Giorgio dall'altra parte e quindi a variare un pochettino l'assetto tattico della sua difesa attenzione il tiro da parte di Giozzo la palla finisce in calcio d'angolo Mimmo stavamo dicendo che il Montepone adesso cercherà di controllare ovviamente l'andamento della gara beh adesso deve cercare soltanto di controllarla però sai sono 45 minuti è un po' lunga ancora però ha tutto diciamo il vantaggio dalla sua parte con questi due gol segnati nel nel primo tempo quello che diciamo che può si possono anche diciamo piano piano riposare ma quelli che devono attaccare sono gli ospiti se il Chiaravalle se vuole diciamo cercare almeno di accorciare le distanze sì effettivamente adesso deve essere il Chiaravalle giustamente a fare la partita a tentare di rientrare in gara attenzione che Virgilio perde la palla e rischia tantissimo perché lo ha trattenuto l'arbitro non se l'è sentita di fischiare il calcio di punizione perché è stato onesto obiettivamente Procopio che non si è buttato si fosse buttato Giuseppe qui ci sarebbe stato punizione ed espulsione ecco c'è il gol Domenico Voci mi pare dalla lunga distanza alla fin fine hanno continuato l'azione all'ottavo del secondo tempo quindi il terzo gol del Montepone stava stavamo commentando questa decisione del direttore di gare che ha fatto proseguire l'azione il giocatore che ha fatto il laggio è il numero tre Genco sul sul tiro poi Domenico Voci è stato bravo a tirare immediatamente e a insaccare alle spalle da lì colpevole Garieri che d'altra parte si trova tre gol sul gruppone uno anche su calcio di rigore obiettivamente ma ha dimostrato inizialmente nell'inizio della gara di essere in condizione di saper tenere la posizione tra i pali è stato bravo per un paio di parate poi è uscito bene per alcune interventi in anticipo adesso si trova con tre gol proprio al passivo che sono pericolosi stavamo commentando attenzione attenzione che Macri rischia di farsi superare da Procopio e rischia di commettere fallo per fortuna si danno il 5 ai due giocatori oltretutto amici ed ex canistrava conquistare un pallone che poi finisce il campo si accorcia e finisce sul fondo quindi non può rigiocarla il numero 20 del Montepone vediamo cosa avviene e c'è un'abbonizione probabilmente da Andrea Maida per proteste ecco questo 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 potrebbe Maida evitarsele queste cose perché sul 3 a 0 andare a protestare prendersi un'abbonizione credo che serva poco addirittura adesso si è fatto abbonire chiede anche la sostituzione Mellacci in avanti per Procopio adesso si gioca un po' a Tamburello vediamo Claudio Maida che lancia in avanti ma Fiorentino chiude e riparte lascia sul posto Rauti e poi va a rinvenire Macri a mettere la palla in fallo laterale per l'arrivo di Nani c'è il cambio probabilmente giustamente esce Maida perché rischiava anche l'espulsione attenzione 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 che c'è pericoloso se lo ammonisce lo espelle e non può essere più sostituito perché si è tolto la maglia si è tolto la maglia è stato adesso non si può più fare il cambio è stato ingenuo ma stava uscendo però l'arbitro in questo caso poteva capire che stava uscendo si è tolta la maglia un po' prima i regolamenti sono questi si può togliere la maglia in campo però lui si è tolta perché stava uscendo non stava esultando a me sembra un'esagerazione devo essere sincero Giuseppe non è che si è tolta la maglia in campo però sta uscendo sta dando il cambio all'altro giocatore che ha fatto un metro senza maglia sicuramente è una decisione eccessiva lo stesso però probabilmente l'arbitro è rimasto sì perché lui gesticolava quando parlava prima di essere ammonito e adesso il sassolino dalla scarpa se l'è elevato l'arbitro con una decisione eccessiva perché togliere un calciatore così quando questa squadra sta perdendo 3 a 0 mi pare una decisione fuorviante è sopra le righe diciamo non è che fosse contro il regolamento perché il regolamento è quello però è sopra le righe obiettivamente se la poteva risparmiare l'arbitro in questo caso ovunque oltretutto c'è il Chiaravalle che deve lottare per cercare di fare punti per la retrocessione adesso si troverà con un giocatore squalificato perché doppia munizione significa espulsione quindi almeno una giornata automatica di squalifica e quindi già per esempio il Chiaravalle domenica prossima nella partita abbastanza diciamo difficile contro la Serresi in casa perde un giocatore diciamo poco propenso alla lotta poco propenso alla corsa cioè non alla lotta la lotta è propenso a sei Andrea Maida però adesso si troverà con un giocatore di esperienza che poteva davvero dargli una mano in campo e adesso il Chiaravalle è in dieci la sostituzione non può essere più fatta il numero sedici in questo momento non può entrare sarebbe esattamente Ranieri se non vado errato e quindi per entrare Ranieri per entrare Ranieri deve uscire un altro giocatore non al posto di Maida può entrare al posto di un altro giocatore mi stava chiamando mia madre al posto di un altro puoi entrare al posto di un altro al posto di un altro puoi entrare al posto di un altro e comunque in ogni caso adesso si sta allungando la situazione perché Andrea Maida deve uscire adesso se ne sta andando negli spogliatoi ma Cri è abbastanza nervoso perché effettivamente c'è anche il commissario di campo che sta dando spiegazioni a norma di regolamento nulla da eccepire non vogliamo adesso passare per quelli che da tanti anni siamo nel calcio non possiamo passare da quelli però io credo che il miglior arbitro sia quello che usa l'intelligenza e la sensibilità in questo caso era un errore diciamo lievissimo no il regolamento è stato correttamente interpretato però bisogna anche leggere la gara capire i gesti secondo me era stato già puntato prima Maida all'epoca della prima ammunizione l'arbitro si è levato il sassolino dalla scarpa e l'ha mandato via si perché effettivamente poi anche l'ammunizione precedente è stata abbastanza strana perché l'arbitro è tornato da una posizione di attacco del Montepone all'indietro per venire ad ammunire Maida che continuava a protestare non sappiamo che cosa sul 3-0 del Montepone e quindi ingenuo certamente il giocatore del Chiaravalle a farsi intanto ammunire per una situazione del genere ma poi obiettivamente lui si è tolto la maglia per uscire per uscire dal campo poteva aspettare due vetri Era qua era giusto sotto le panchine avrebbe potuto attendere qualche momento prima di levarsi la casacca ma è una decisione questa che sicuramente va ad inaspire quelli che sono gli animi in campo perché giustamente non è stata se il rigore è stato digerito sicuramente questa espulsione non sarà digerita da parte della della squadra del Chiaravalle Comunque mettiamo un pochettino di ordine nelle situazioni nei conti siamo arrivati esattamente al sedicesimo del secondo tempo il Real Montepone conduce 3 a 0 sul Chiaravalle un Chiaravalle che da un paio di minuti adesso è anche in dieci uomini per l'espulsione certamente affrettata da parte del direttore di gare il signor Torce di Catanzaro per doppia ammunizione combinata ad Andrea Maida il centroavante del Chiaravalle che uscendo si è tolto la maglia due metri prima di arrivare alla linea dove doveva dare la mano al numero 16 Ranieri che era pronto per entrare in campo l'arbitro ha fermato tutto dopo che aveva consentito l'ammunizione ha fermato tutto si è avvicinato a Maida lo ha ammonito per la seconda volta lo ha espulso per cui a quel punto il giocatore Ranieri non può entrare più al suo posto ma deve essere un altro giocatore ad uscire perché il Chiaravalle da questo momento certamente deve giocare in dieci uomini Nania scambia con Cannistra Bellace apre sulla destra per Conidi e per chiudere questo discorso quello che è peggio poi il discorso sarà che il Chiaravalle si troverà domenica prossima nella partita difficilissima in casa contro la Serrese e quindi dovrà davvero fare di necessità una virtù nella speranza che per quanto riguarda il Chiaravalle ovviamente non ce ne vogliono gli amici di Serra certamente per quanto riguarda l'attacco contro la squadra di Serra che poi è un derby l'arbitro va a spiegare qualcosa a Macri all'allenatore del Chiaravalle esce Iozzo probabilmente il capitano esce il capitano Iozzo e quindi in un attimo perde i due attaccanti più importanti il Chiaravalle vabbè che adesso sul 3-0 probabilmente c'è poco da dire il diciottesimo del secondo tempo entra il numero il numero 10 capitano Iozzo e qui probabilmente Macri è stato lungimirante perché si era un po' fatto male anche Iozzo e almeno dovendo perdere Maida non vuole perdere anche il suo capitano per la partita di domenica prossima tutto in chiave di lettura della gara di domenica prossima dove il Chiaravalle si giocherà praticamente una stagione in casa con la Serrese e Macri non ha fatto sicuramente una scelta sbagliata perché sul 3-0 nel secondo tempo cerca di chiudere gli spazi e guardare a domenica prossima E allora Cannistrà sulla palla per il calcio di punizione va direttamente in porta il numero 20 del Montepaoni Chiaravalle che per dirla tutta sarà chiamato a un finale di campionato è importantissimo perché oggi incontrava la capolista nell'ultima giornata proprio di campionato incontrerà il San Calogero che è la vice capolista che a quel punto probabilmente se non dovesse lottare più per il primo posto perché il Montepaoni magari riesce a controllare questo finale di campionato però dovrà stare attento dall'eventuale ritorno della Vigor Lamezia sappiamo quanto è importante il secondo posto rispetto al terzo perché in questo campionato ad oggi non ci sarebbero play-off per quanto riguarda le semifinali ci sarebbe soltanto la finale dei play-off che riguarderebbe la seconda contro la terza e dovrebbe essere proprio lo scontro tra San Calogero e Vigor Lamezia vedendo poi quale delle due dovrà giocare in casa al momento è certamente il San Calogero che ha due punti di vantaggio sulla Vigor Lamezia quanto pare addirittura oggi la Vigor stava perdendo anche in casa contro il Badolato quindi vedremo quello che succederà in questo finale di campionato per quanto riguarda la prima posizione tutto i tre nei piedi del Montepaona l'abbiamo già detto il Montepaona adesso ha questo vantaggio di tre punti sulla seconda in classifica dovrà fare le sue partite senza pensare a quello che faranno gli altri perché se dovesse davvero fare dieci punti come abbiamo detto in inizio di telecronaca non ce ne sarebbe più per nessuno forse la partita più complicata più difficile potrebbe essere quella di domenica prossima a Bivongi contro il Monasterace altra squadra di bassa classifica che è sotto del Chiaravalle oggi per esempio il Monasterace non gioca perché prende prende i tre punti a tavolino per il ritiro del Tropea quindi va a 24 punti a due punti di distacco dal Chiaravalle quindi anche qui si dovrà verificare quale delle due squadre in questo caso sono due squadre tanto per scontato che ormai il Tropea è retrocesso potrebbe essere retrocesso anche lo Stignano e il play out dovrebbe riguardare due tra le tre squadre che sono Caolonia Monasterace e Chiaravalle Vabbè ma io ho vinto dai e ulei C'è 've sì 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 fase di stanca di questa partita ormai sul 3 a 0 c'è poco da raccontare quindi il Montepone diciamo anche se ancora mancano più di 25 minuti alla fine attenzione Rauti Rauti se ne va sulla fascia di destra però viene recuperato dal rientro di Ienco che è bravissimo a rimettere e a mettere la palla fuori in aria entra un altro giocatore per il Chiaravalle entra il numero 13 Candeloro ed esce proprio Rauti e allora a questo punto Macri sta togliendo tutti gli attaccanti quelli che potrebbero servire domenica prossima due probabilmente dovrebbero essere sicuramente Iozzo e Rauti adesso siamo al 23esimo del secondo tempo quindi quest'altra sostituzione il numero 13 Candeloro entra al posto del numero 11 Rauti ma è Candeloro o Candeloro e prima sostituzione anche nel Montepone esce Procopio quanto vedo entra il numero 17 Antonio Paparazzo il secondo per la precisione per distinguerlo con l'altro l'89 e quindi siamo al 23esimo adesso 23esimo quindi l'entrata in campo di Paparazzo Antonio del 91 Paparazzo Antonio II al posto del numero 9 Salvatore Procopio credo che anche Pisano a questo punto gestisca i suoi uomini farà ruotare magari quelli che hanno più minuti tra le gambe per farli riposare un 3 a 0 è abbastanza importante ricordiamo che oltretutto il Montepone è stata una squadra che non ha nemmeno potuto suffruire della sosta pasquale perché aveva da recuperare la partita con il Bivongi che inizialmente doveva essere giocata il 25 poi è stata rinviata al 31 quindi mentre tutte le altre squadre hanno fatto due settimane ufficialmente di sosta che poi magari avranno potuto sfruttare per fare qualche richiamo per fare qualche riposo il Montepone questo non l'ha potuto fare perché conoscendo la pignoleria si perdoni il termine di Alessandro Pisano per preparare una partita non avrà affatto certo riposare i suoi giocatori nelle occasioni delle festività pasquali Giuseppe ebbè lo conosciamo così Alessandro Pisano è un uomo di spogliatoio uno che calcola tutto per cui difficilmente avrà concesso tanto alla squadra in vista del recupero sotto le feste pasquali li avrà fatti allenare come si deve attenzione ancora il Cannistrà vediamo se mette al centro la mette adesso la palla finisce ancora in porta e mi pare che sia stato ancora Domenico Voci ancora Domenico Voci a segnare al venticinquesimo esatto del secondo tempo quindi 4 a 0 un 4 a 0 diciamo che ci sta tutto tanto per finire il discorso di prima secondo me Alessandro Pisano li farebbe giocare anche se Domenica dovessero incontrare o non incontrare il tropea come si dice in questi casi una squadra riterata e d'altra parte anche un'altra sostituzione l'altro paparazzo il numero 19 ed esce proprio Domenico Voci che ha fatto la sua doppietta e la doppietta dei due voci abbiamo oggi 26esimo quindi 26esimo secondo tempo entra il numero 19 l'altro paparazzo Antonio quello dell'89 per la precisione e quindi Virgilio per il Chiara Valle porta la palla in avanti verso De Giorgio De Giorgio che ricordiamolo nel secondo tempo si è spostato sulla sinistra del suo schieramento difensivo per l'uscita di Borrelli e per l'entrata in campo al centro dell'attacco di Nicola Macri Gagnistrali indietro ancora Claudio Maida in aria vediamo se cerca di portarsi il pallone lo dà a Fiorentino poi la palla a Fulciniti chiedo scusa poi la palla viene buttata a lunga distante dalla difesa del Montepaone anche qualche cambio ancora prepara Pisano richiamando i suoi giocatori che stanno preparando dietro la porta di Lombardo ecco Gandiloro che tocca il suo primo pallone il rilancio di Mammone Lombardo controlla il pallone lo dà a Conidi il capitano apre per Nania scambiano i difensori poi la palla arriva a Mellaccio Mellaccio apre per Fiorentino sulla faccia di destra l'altro paparazzo paparazzo primo del Giorgio con le mani per la rimessa del fallo laterale certo che ormai c'è poco da raccontare di questa partita ormai certamente si aspetterà soltanto alla fine il fischio finale dimmi Giuseppe è chiaro che con l'espulsione di Maida nel corso del secondo tempo con un uomo in meno hanno avuto la vita più facile i calciatori del Montepaone che con una gestione dei tempi di gioco diciamo proficua sono riusciti ad affondare per ben due volte la porta di Garieri e adesso è chiaro che con un 4-0 c'è poco da c'è poco da giocare anche se il Chiaravalle sta cercando il gol diciamo della bandiera giusto per l'orgoglio ricordiamo che Montepaone e Chiaravalle hanno una rivalità si può dire infinita eccolo qua eccolo il gol l'avevi appena chiamato il numero 7 Claudio Maida al 29esimo un bel tiro dalla lunga distanza di sinistra di sinistro Lombardo in questo caso non si aspettava questo tiro probabilmente lo ha scavalcato era un bel tiro d'altra parte proprio nel set alla sinistra del portiere del Montepaone 4-1 e il gol della bandiera come diceva Giuseppe Ranieri è arrivato è giusto d'altra parte in fondo in fondo il Chiaravalle nel primo tempo per prima che il Montepaone riuscisse a sbloccare il risultato al 35esimo con Marco Voci aveva dato qualche impressione di saperci stare in avanti 4 giocatori potevano davvero essere pericolosi e quindi poter addirittura sperare di sbloccare il risultato lo stesso Claudio Maida aveva avuto un'occasione per battere in porta dalla destra nella porta di Lombardo non ha indovinato lo specchio e quindi ha vanificato questa opportunità per la squadra ospita di potersi eventualmente e di potersi in vantaggio nel primo tempo poi il Montepaone ha cominciato a trovare le linee di passaggio tra i giocatori più importanti tra questi è proprio stata importantissima quella tra Armando Mellace e Marco Voci che è stato trovato tutto solo in area di rigore davanti a Garieri è stato brevissimo il bomber di casa nel segnare il gol che ha sbloccato il risultato da lì poi è venuto anche abbastanza diciamo inopinatamente un pochettino non preventivabile quel calcio di rigore che agli occhi di tanti non avevamo visto obiettivamente ha visto l'arbitro però nessuno ha protestato quindi si vede che il rigore c'era e quindi poi il 2 a 0 alla fine del primo tempo poi la vicenda di Andrea Maida come diceva giustamente Giuseppe ha in pratica chiuso la gara e questi altri due gol del Montepaone e poi questo bello quest'altro bel gol di Claudio Maida per il 4 a 1 che sta maturando all'altezza del 32esimo del secondo tempo quindi una partita bella intelligente vivace diciamo corretta per la precisione ecco perché ci dà fastidio quell'espulsione lì ci dà fastidio nel senso che proprio obiettivamente non ci stava ecco e per poco e in questo caso Nania no no scusa Doria se non vado errato ha sbagliato cercando un pallonetto che poteva scavalcare i garrieri De Giorgio non raggiunge il pallone vediamo c'è un'altra sostituzione ed ed c'è proprio Marco Voci se non vado errato esatto entra il numero Mungo siamo al 33esimo del secondo tempo si 33esimo del secondo tempo entra il numero 22 Mungo sono usciti gli autori dei gol in pratica per quanto riguarda il Montepone doppietta di Marco Voci nel primo tempo come abbiamo già detto e doppietta di Domenico Voci nel secondo tempo e quindi anche in casa Montepone si dà spazio a qualche giovane chiaramente a far riposare qualcuno ecco si era lanciato ancora una volta Doria e sta cercando a questo punto gloria personale poco fa ha sbagliato di poco il il gol mandando leggermente alla destra della porta dei guerrieri un pallonetto il neo capitano del Chiaravalle il numero 4 Lombardi e adesso Ienco Ienco che si porta in avanti cerca di dare la palla e beh questa volta fuori gioco era fuori gioco è giusto è giusto la posizione irregolare del giocatore del Montepone il numero 17 Antonio Paparazzo del 91 secondo per la precisione Mammone Candeloro Ancora Mammone a mettere la palla al centro chiama Gianmarco Lombardo chiama il pallone a essere in possesso lo consegna Fiorentino Paparazzo primo con Ivi Fiorentino cercano lo scambio i difensori del Montepone cerca di controllare la palla la squadra di Pisano Nania Cannistra due volte a servire Ienco Ienco e Doria pallo sul numero anzi no era Mungo il 22 Conidi apre ancora per Fiorentino che vede tutto libero Paparazzo Paparazzo primo che si porta la palla in aria e c'è ancora fuori gioco da parte del giocatore sempre del Montepone l'altro Paparazzo di nuovo che si trova in posizione irregolare si impegna Mungo ad andare a recuperare questo pallone poi Garieri prima di mano poi di testa porta il pallone fuori dalla sua aria la mette in fallo laterale non riesce a raggiungerla Canteloro ancora una volta il portierino del Chiaravallo ha dimostrato di avere buone capacità saper leggere il movimento della palla l'azione che si sta sviluppando uscire intelligentemente di testa fuori da aria e poi mandare in avanti per un suo compagno Paparazzo verso Fiorentino poi Canistra Mellace è quello che viene fermato mentre stava preparando per il letiro Virgilio porta il pallone in avanti anche il Chiaravallo credo che a questo punto cercherà di gestire il pallone di evitare ulteriori retti da parte del Montepaone e cercare di portare alla fine ormai questa partita che è segnata i tre punti sono andati a proposito di tre punti vorrei giustamente chiedere Mimmo e allora diamo per scontato ovviamente tre punti assegnati al Montepaone siamo a meno tre adesso sì siamo a meno tre restano tre partite come dicevo prima importanti perché adesso ogni partita è importante ogni partita per il Montepaone è una finale è una finale quindi occorrono adesso altri quanto punto altri sette punti per poter dire per poter fare il salto di categoria tu pensi che potrebbe gestirla questa fase Pisano sapendo che può contare anche su un pareggio per esempio la partita di domenica prossima a Bivongi col Bonasteraccio che poi dovrebbe incontrare il Badolato in casa e il Real Mileto fuori casa beh no non deve sperare diciamo in un pareggio a costo deve cercare di vincere perché potrebbe poi magari esserci esserci un pareggio ma non andare già col pensiero di poter pareggiare e ammonesterarci giustamente chiudiamola prima e chiudiamola subito si dice pratico Mimmo giustamente dice dobbiamo chiuderla chiudiamola non facciamo calcoli non facciamo conti anche perché ovviamente poi giustamente tutte le partite sono importanti e come per esempio domenica scorsa è stata decisiva la partita del San Caloggio a Borgio potrebbe essere complicata la partita per esempio del Montepone a Mileto perché sappiamo che magari essendo del Vibonese ci potrebbe essere diciamo una simpatia non nel calcio ma una simpatia ci può stare sempre ma sicuramente come giustamente sottolineava Mimmo Cosentino adesso ogni partita è una finale è pur vero che bastano dieci punti adesso ne mancano sette ma non bisogna mai porsi con la mentalità del pareggio perché il calcio è fatto di episodi oggi lo abbiamo visto è stato un esempio eclatante oggi per cui il Montepone deve cercare di vincere tutte le partite a maggior ragione il fatto che deve incontrare un'altra Vibonese è importante un approccio giusto una cura dei particolari per cercare di conquistare tutta la posta in palio anche perché un po' diciamo ingenuamente c'è stata una polemica in settimana che probabilmente ha innescato secondo me sbagliando l'allenatore del San Calogero domenica scorsa a Borgio dopo che ha perso la partita per rabbia ha innescato quella polemica dicendo che sapeva che già qualche partita era già assegnata che qualche squadra si presentava già diciamo condannata qui a Montepone sicuramente figlio del nervosismo sta cercando anche di fare un po' di pretattica perché il San Calogero non è più prima in classifica quindi cerca di mischiare un po' le carte per cercare di fare perdere la giusta via al Montepone e anche queste strategie del calcio e non lo dimentichiamo abbiamo una sostituzione anche per caricare le avversarie vediamo quest'altra sostituzione entra il numero 15 Tino vediamo chi esce forse dovrebbe uscire Lombardi se non vado errato dovrebbe essere il numero 4 vediamo se è lui no no era diventato capitano Lombardi era diventato capitano mi pare il 4 Lombardi allora abbiamo visto bene ha dato l'altra la sua maglia a un altro giocatore siamo al 41 41 del secondo tempo quindi quarta sostituzione in casa a Chiaravalle adesso un altro del Montepone entra Carpino Scemellace con il numero 23 voi che siete sempre qui dovrete fare una petizione al Montepone a cambiare i numeri che ci sono il colore dei numeri questa è una richiesta che vi faccio io perché specialmente con questi numeri grandi si vede ben poco si distingue ben poco da qui sopra a meno che non ci mettono un monitor qui davanti perché vediamo direttamente sulle immagini del nostro operatore Pasquale Lentini adesso è diventato il numero 7 mai da Claudio il capitano del Chiaravalle tentativo dalla lunghissima distanza di Ranieri e anche in questo caso prima c'era stato un bel tiro che aveva portato al 4 a 1 adesso il tiro era sbilenco per il Chiaravalle Nania qui sulla fascia per Gienko Gienko ancora per Canistrà cambiano i due il numero 3 la dà il paparazzo Antonio e poi riparte il Chiaravalle con il numero 16 Ranieri poi Candiloro frenato da Nania in fallo laterale pochissimi minuti ormai alla fine della partita vedremo se l'arbitro che nel primo tempo ha segnato due minuti di recupero ma in quel caso c'erano state sostituzioni degli infortuni qui c'è stata la lunga sosta per quanto riguarda l'espulsione di Maida però non credo che sia necessario un corposo recupero perché sul 4 a 1 credo che lo stesso arbitro possa dichiarare chiusa la gara la competizione dopo pochi minuti di recupero e allora tracciamo le linee di questa partita vittoria meritata da parte del Montepone che ha giocato come la prima della classe che sa prima o poi di poter trovare il gol e sa di poter gestire la partita sì sicuramente con un inizio Sorgnone ha gestito per bene i tempi di gioco fino a quando ha rotto l'equilibrio e poi è stato tutto un susseguirsi quindi possiamo dire che tra i migliori in campo possiamo menzionare tranquillamente voci Marco e voci Domenico per quanto riguarda il Montepone per quanto riguarda invece il Chiaravalle fino all'espulsione possiamo parlare di Maida Andrea ma anche Maida Claudio è riuscito nel gol della bandiera con uno spettacolare tiro dalla distanza una partita che ormai non ha più nulla da dire il Montepone è riuscito a conquistare l'intera posta in palio quindi scende a meno 7 rispetto alla sua tabella di marcia e mister Pisano con i cambi che ha che ha posto in essere che sta ponendo in essere fino a questo momento sta già guardando alla prossima di campionato il Chiaravalle invece avrà un turno duro in casa con la Serrese perché ha un uomo importante in meno e sarà molto dura io avevo dimenticato che tu con Giorgio eravate abituati a fare i migliori della partita esce Fiorentino ed entra Sinopoli Luigi e qua siamo già ormai al 45esimo del secondo tempo quindi proprio in finale vediamo se il direttore di gara ci segnalerà il suo recupero e quindi ci avviamo alla chiusura della partita abbiamo già detto tutto vittoria meritata del Montepone che giustamente come diceva Giuseppe ha controllato in apertura di gara la situazione in campo poi sapendo la capacità degli inserimenti di Marco Voci e dei lanci millimetrici di Armando Mellace attenzione che ancora il Chiaravalle si porta in aria con il numero 18 Virgilio e Conidi davvero grandissimo difensore non bada al sottile spedisce la palla in caccia d'angolo spedisce anche il giocatore avversario per terra però senza farlo dopo aver mandato il pallone in out quindi stavamo dicendo quando poi ha cominciato a trovare le linee di intesa dei suoi giocatori il Montepone ha sbloccato la partita poi si è trovata sul 2-0 immediato con il calcio di rigore benevolo diciamo noi da parte del direttore di gara che secondo me ha sbagliato due posizioni due situazioni in questa partita solo quel calcio di rigore che poi forse d'altra parte c'era sicuramente perché nessuno ha protestato e lui era lì vicino quindi io dico così forse perché non lo abbiamo visto bene subito noi non ci siamo accorti anche perché l'azione stava continuando la palla era tra i piedi dei giocatori del Montepone però diciamo non è quello un grandissimo errore un po' meno ci è piaciuto nell'occasione dell'espulsione di Maida ma non perché non fosse regolamentare o non ci fossero i termini della giustizia sportiva come si dice ma perché era stata seggiorata su questo punto fischia con un minuto di recupero 4-1 il finale qui a Montepone tra Real Montepone e Chiaravalle per fortuna è stata una partita tranquillissima non ci sono stati problemi non c'è stata nessuna discussione in campo ripeto solo quell'episodio e però a questo punto il Montepone prende tre punti importantissimi una giornata in meno per l'eventuale promozione della squadra di Alessandro Pisano e di tutta la cittadina di Montepone da Fausto Varano un ringraziamento a Giuseppe Ranieri qui vicino a me e a Mimmo Costantino che hanno contribuito a questa telecronaca grazie a Pasquale Lentini per le riprese a risentirci con le prossime occasioni targate come sempre S1 TV ricevitorie geracee a Montepone da noi puoi giocare superera 8 totogol totocalcio trist giornaliere e win for life ogni ora agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint ricariche telefoniche pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar ricevitorie geracee vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Ritro su di noi puoi scommetterci